Genoa MVP è Miguel Velozo Allora Miguel riceve dalle mani del dottor Parodi il premio come Genoa MVP A sua volta concede un dono, quindi Miguel sei tu che devi premiare il Genoa MVP, il top contributor Quindi Diego con la tua maglia autografata, ringraziando tutti i tifosi genuani che nonostante l'infortunio e i pochi minuti disputati Hanno deciso di tributarti il premio come miglior giocatore Miguel Velozo, grazie